ognuno di noi dorme in maniera diversa quindi ha bisogno di un materasso diverso a secondo di quella che la sua postura notturna ma molto spesso quando si vive in coppia quando si vive in un letto matrimoniale piuttosto che sentire questa divisoria questa divisione fra un materasso e l'altro si preferisce scegliere di prendere un materasso matrimoniale e in questo modo uno delle due della coppia molto spesso non è soddisfatto Ikea ti permette di utilizzare due materassi singoli uniti insieme da un sistema che non ti fa sentire questa divisione